Ciao a tutti ragazzi, io sono Zane e perché ho 5 trofei? Bene, state tranquilli, non è che ho cominciato tutto da capo, ho perso tutti i progressi ma semplicemente innanzitutto ho scoperto che si può mettere lo stesso nome miliardi di volte e l'ho scoperto perché questo è il quarto account che creo di Clash Mini infatti nell'account principale, dopo vi faccio vedere, non è che sono andato effettivamente così in alto vedo che nella top 1000, insomma, c'è gente che è molto avanti e la millesima ha 230 trofei vedrò ovviamente di cercare anch'io di essere nella top 1000 ma se non sono lì è perché l'ho fatto per voi infatti adesso creeremo un nuovo account di Clash Mini anzi, fatemelo fare subito e quindi dobbiamo vedere, alla prima scelta di Clash Mini, qual eroe scegliere questo lo faccio per chiunque non abbia ancora deciso qual eroe scegliere perché semplicemente non ha ancora installato Clash Mini ma lo faccio anche per chi magari ha scelto un eroe con cui non si trova bene e quindi vuole cambiare ora vi dirò qual è il miglior eroe adesso ma vi dirò anche che poi ovviamente cambieranno le cose infatti se adesso, ve lo dico già, c'è la Shield Maiden che è la migliore ma vi devo spiegare effettivamente perché ed effettivamente non è detto che sia la migliore ma effettivamente ci saranno Nerf, soprattutto penso per Shield Maiden e Buff magari per Larcher Queen quindi io innanzitutto vi lascio il video che è uscito ieri per voi che vi dice effettivamente qualche news riguardante appunto Nerf e Buff e anche per quanto riguarda i Challenge Coins però andiamo a vedere per ora e io vi consiglio per ora di approfittarne perché poi non si sa come saranno i Buff e i Nerf che arriveranno per ora vediamo cosa è meglio scegliere ovviamente la prima cosa che dobbiamo andare a vedere sono le abilità infatti ogni eroe come potete vedere qua ci sono delle abilità diverse partendo dal Barbaro la sua abilità è Iron First in sostanza la sua super è far aumentare agli avversari dopo un tot di tempo che si vede con una barra sotto se avete già giocato a Glecmini sapete cosa intendo e gli alleati vanno a potenziarsi appunto grazie a lui poi c'è l'Archer Queen che ha una balestra e a differenza dell'Arcere normale che comunque già lui non è male in quanto può lanciare anche due frecce questo addirittura ne può lanciare tre alla volta e più volte inoltre ha come altre abilità quella ad esempio di aumentare la velocità degli amici poi anche lui ovviamente può aumentare la velocità di attacco oltre a quanto forte è l'attacco mentre per quanto riguarda la Shield Maiden e qui questo è il bello innanzitutto fa danno che non dico che è come il Barbaro perché no però è abbastanza è forse un po' più lenta questo lo noto in alcuni gameplay ma la cosa bella è che una volta che si attiva la sua super usa il suo scudo se lo mette davanti e da qualsiasi parte arrivano i colpi ragazzi non solo è protetta ma addirittura riflette i danni e questo lo rende ovviamente OP ragazzi quindi se dovete scegliere scegliete Shield Maiden ora io nell'account principale ovviamente ho scelto lui perché già sapevo com'era la storia ovviamente a seconda di quello che scegliete vi cambia anche un po' il mazzo ma per quanto riguarda l'analisi tecnica dei mini arriveranno dei video futuri nella playlist nel caso poi sono già usciti e li lascio in descrizione comunque adesso scelgo un attimo l'Alcher Queen e ho detto sì è la più scarsa ragazzi è così è la più scarsa il suo mazzo direi che è molto molto meglio rispetto a quello del Barbaro però allo stesso tempo ragazzi se l'eroe non è granché insomma c'è da fare un po' i conti con questo fatto qui sicuramente potete anche comunque poi andando avanti soprattutto ragazzi più ovviamente aumentati di livello d'eroe più comunque innanzitutto sbloccate la nuova abilità e io non l'ho mai fatto quindi vi posso dire per l'inizio non vi posso dire per quello che succederà fra due settimane tre settimane come vi troverete però vi posso dire che la partenza è molto difficile con l'Alcher Queen infatti io ci ho provato e si sente questo problema come vedete all'inizio vi da anche la guardia che ho provato ed è buona ma effettivamente è buona per certi player nel senso che abbiamo discusso sul gruppo Telegram che ragazzi vi ricordo c'è il gruppo Telegram mi raccomando il link è in descrizione unitevi eccolo qui possiamo discutere di Clash Mini a volontà se avete magari domande sul vostro mazzo se non sapete come progredire ragazzi ci sono 905 membri e saliremo ancora di più infatti in un giorno siamo saliti di 200 membri quindi mi raccomando ragazzi venite e possiamo farci un po' di chiacchierate e magari potete condividere i vostri progressi insomma è molto molto bello adesso lui ovviamente mi chiede sempre ragazzi non sapete quante volte ho fatto questa cosa qui di fare le quest iniziali non ce la faccio più ve lo giuro va bene andiamo andiamo a fare adesso quella di giocare ranked match duello game mode qua duello vai ecco quello che volevo dirvi che una buona tecnica è mettere questo sempre in ultima fila mettergli di fianco leading ranger e la guardia qua davanti questa è una tecnica che ho usato all'inizio senza in realtà sapere effettivamente cosa stessi facendo ma soprattutto contro per quanto riguarda la truppa quello del log rider vecchio perdonatemi non mi viene in mente come si chiama però per quanto riguarda quella truppa e per quanto riguarda contro il barbaro ragazzi è veramente buono ora vabbè adesso mi verrete vincere perché la prima battaglia è sempre facilissima adesso parliamo un attimo del barbaro e poi passiamo alla shield maiden ragazzi scusate ma l'ho provato già un sacco di volte non posso rifarmi un altro account poi c'è il tutorial che veramente ogni volta mamma mia comunque analizziamo un attimo lui allora è molto p per quanto riguarda la sua super iron first e effettivamente è ancora più p quando poi al livello 10 sbloccherete il fatto che dura il doppio la pecca di questa super è uno che l'area in cui si attiva è effettivamente ridotta soprattutto all'inizio e effettivamente l'effetto non viene applicato a tutti e questo è un po' un problema quindi dovete mettergli le truppe molto appiccicate però poi nel gameplay ragazzi può avere altri riscontri negativi e una cosa negativa di scegliere il barbaro il king barbaro è che poi invece vi dà il barbaro normale che ragazzi l'ho provato e veramente non è buono ve lo dico non è buono magari se già si arriva alla seconda stella può essere utile però però effettivamente costa due ma guarda meriterebbe di costare uno perché è abbastanza inutile vi devo dire la verità per il resto però il barbaro tenete conto che è più veloce ad attaccare quindi i danni al secondo sono maggiori rispetto alla shield maiden il doppio passiamo però invece a lei alla shield maiden e fatemi loggare quindi col mio account vero ok eccoci qua allora qui come vedete sono un po' più avanti soprattutto per quanto riguarda le coppie che sono a 106 sono appena arrivato in silver 3 vabbè fatemi togliere la ranked mode andiamo in duello e vi faccio vedere quanto effettivamente OP ecco contro l'archer queen poi ragazzi allora mettiamola il più avanti possibile mettiamogli dietro magari uno spear goblin sarebbe bene con lo spear goblin beccare direttamente l'archer queen ma ovviamente ragazzi questo va a fortuna nel senso che lo spear goblin come vedete guardate adesso all'inizio lancia la sua freccia gigante ecco ok comunque guardate qui ecco non appena andiamo contro l'archer queen nonostante sia a livello 4 devastata in due secondi questo grazie anche al fatto che come avete visto la shield maiden ha riflettuto la shield maiden è veramente OP vi consiglio di sceglierla e soprattutto di giocarci il più possibile fino a che non la nerferanno perché o potrebbero farla costare 5 al posto di 4 però questo romperebbe un po' la meccanica classica degli eroi oppure magari gli diminuiscono ancora di più i danni al secondo anche se ragazzi già adesso si vede che è veramente lentissimo 0.4 al secondo o magari gli diminuiscono l'HP oppure deve aspettare di più prima di farsi la super non lo so però sicuramente qualcosa succederà come qualcosa forse succederà anche alla nostra archer queen adesso vedremo in futuro lo vedremo io ovviamente vi consiglio comunque di iscrivervi perché se lo scopriremo lo scoprirete qui per primi su questo canale mi raccomando e c'è un'intera playlist che vi aspetta di clashini quindi cioè non lo so spero ve lo siate già installato e ci vediamo domani per un nuovo contenuto su questo gioco ciao ragazzi grazie a tutti